La stagione di pesca alla trota ormai è conclusa quindi non ci resta che consolarci nei fiumi di Fondovalle dove qualche volta si riesce a catturare qualche iridea rinselvaticuita. Un bel esemplare abboccato al mini streamer, ora molto probabilmente a causa della corrente sarà dura portarla a Guadino. La canna sta lavorando al limite della rottura a causa della forte corretta. Grazie a tutti. A me questo pesce non piace molto, comunque ammazza come tira ragazzi. Grazie a tutti. 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 un lupo ulula un lupo ulula